Poco meno di 48 ore ancora a disposizione per cogliere un'importante opportunità, quella di entrare a far parte della Guardia di Finanza. L'appello dal colonnello Antonio Caputo, comandante della Guardia di Finanza della provincia di Pescara, a ragazze e ragazzi dai 18 a 24 anni. L'iscrizione è molto semplice, tutto online e i posti a disposizione sono 1673, di cui 1461 nella contingente ordinario e 212 nella contingente di mare. Una chance non solo professionale, ha ricordato questa mattina la stampa al colonnello Antonio Caputo, comandante della Guardia di Finanza della provincia di Pescara, ma che deve anche inorgogliere i giovani che hanno la possibilità di far parte di un corpo che la prossimo anno compie 250 anni e che, senza mai dimenticare le sue tradizioni, si è sempre contraddistinto per la sua propensione ad esplorare tecniche investigative sempre più innovative per restare al passo con l'evoluzione del crimine. Chiedo ai ragazzi della provincia di Pescara di mettersi in gioco e di fare di tutto per entrare a far parte della nostra istituzione. Occorre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, occorre aver compiuto 18 anni e non aver superato i 24 anni. È una bella sfida che chi è interessato potrà affrontare in maniera competitiva.